ciao ragazzi deve entrare la macchina con la macchina è andata via quale macchina? c'era una macchina? non c'è più? Laura 5 minuti con Vasco allora ve la fate passare per favore 5 minuti Laura 5 minuti non c'eriamo altro 5 minuti 5 minuti Laura 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti Laura dai ci vuole vediamo VASCO! 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 Divinciamo casa! 5 minuti! 5 minuti! VASCO! 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 Ci ripuliamo la strada Laura! Ciao! Vemi tutti se lo prendo! VASCO! 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 VASCO!